A chi si devono le leggi del moto? Lorenzo? A Newton, prof. Mica male. Allora vediamone un'altra. A chi si deve la legge della caduta dei corpi? Francesco? Ma prof, Galileo, Galilei. Vediamo questa. Chi era capo dello Stato italiano nel 1950? Cesare? Luigi Einaudi. No, ma sapete tutto. Vediamo questa. Chi era il fondatore del futurismo? Carlo? Filippo Tommaso Marnetti. Ma è impossibile. Allora, vediamone un'altra. Come si concluse la famosa battaglia di Waterloo? Noè? Con la sconfitta di Napoleone Bonavanti. Tutte le risposte, prof. Sono su Mondo R. Regalate un abbonamento. Dieci numeri di Mondo R. Non sa. Tutte le risposte. No dio! Tutte le conoscimento. Tutte le pe